Maria, non Maria, ma mi fa abbassare il quadro, mi fa abbassare il quadro, Maria, e Asio, facciamo un applauso, è l'esperta informatica alla computer Miriam, poi passiamo ai docenti, il mio collega Antonio Basile, che ha curato i plaudi, un grosso applauso, il professor Basile, mia moglie, la professoressa Crocco, tutti i docenti, prego ragazzi, venite tutti quanti qua, colleghi, venite dietro di me, il dirigente scolastico, la dottoressa Simana Valletta, facciamo un grosso applauso,